Oioho, ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video Forse è un po' storta la webcam, ma vabbè Benvenuti in un nuovo report Oggi, signore e signori, il report del Lulus Championship Series che si è tenuto il 19 di dicembre 2021 Io sto registrando praticamente, sono mezzanotte e 20 del 2012 2021 Quindi in realtà sono tornato da tipo 10 minuti Questo video dovreste vederlo tipo martedì, forse, non lo so Dipenderà quanto tempo avrò per editarlo perché non riesco a farlo uscire per il lunedì, sicuro In ogni caso, cosa ho portato? Ho portato Invo Dolmatica Ovviamente ragazzi vi porterò la decklist, è inutile che me lo state a scrivere qua sotto Perché so già che la volete, la decklist aggiornata di Invo Dolmatica Addio, sto coso si sta usurando in una maniera impressionante Ma va bene così, sporcando un sacco Vabbè, in ogni caso Ho portato ovviamente Invo Dolmatica Per quale motivo? Perché è il mazzo con il quale mi sento più confident al momento E mi sta divertendo, quindi non vedo il motivo per il quale non portarlo Eravamo in 70 Quindi questo vuol dire 7 turni con top 16 E niente, vi faccio vedere prima che cosa ho scambiato Perché sono uscito a prendere questa roba qui Trappolatrice Rafflesia, scambiata per una base Prankits Scrausa più qualche, 2€ tipo, un bel genere Emergency Teleport è preso insieme ai Emergency Teleport da HSRD Preso insieme ai Cavaliere di Kagemucha Secret che me ne mancavano giusto due E poi il Mac Drago Vermiglio Tutte queste carte prese, vabbè In realtà la Rafflesia non mi serve Però Kagemucha, Emergency Teleport, Mac Drago Vermiglio Sono un po' prese per rarizzare Un po' prese, sì Un po' meno da tappese per rarizzare E perché la terza teleporti mancava Detto questo, comunque queste sono le poche cose che ho preso Torneo Allora, ovviamente 7 turni molto pesante L'ultima volta lo scorso Lulus Che era la prima tappa Era quella Arte della Terra Kurogane A sto giro Arte dell'Acqua Aoi Feci il 19esimo posto con Altergeist A sto giro Porto Invo Dolmatica Con delle attese abbastanza alte Mettiamola così Primo turno vado contro PK Di un mio amico E vabbè Un ragazzo che viene al faroludico a giocare Luigi Che saluto E niente Poco da dire Bricca tutte e due le partite Io vengo il dado Gli tiro in permanenza una In permanenza l'altra 2-0 secco Mi dispiace per lui Però evidentemente Dove l'anna così, fratelli Purtroppo dove l'anna così Mi dispiace tantissimo Perché veramente non ha fatto Cioè, non ha fatto veramente nulla Ho fatto tipo la seconda partita 4.000 danni Ma poi l'ho Tipo, no Non mi ha fatto 4.000 Mi ha fatto 0 Comunque L'ho chiuso male Quindi rip Vediva sempre quel mago nero In mano Fantastico Vabbè Poco da dire Vabbè, poco da dire Veramente sulle partite contro PK Perché sono state Praticamente a senso unico Secondo turno Valo contro Drytron In feature match Infatti Vengo streammato La mia partita viene streammata Il giocatore è molto bravo Grazie a un oro russo Penso che qualcuno qui lo conosca Prima partita Vedo capocchie Letteralmente E niente Poco da dire Mi chiude Senza troppi problemi Seconda partita Lui fa un piccolo misplay Ma comunque Avevo preso troppo vantaggio Praticamente Mi aveva negato Droll L'attivazione di Droll Con l'araldo della luce Arancione Nonostante io però avessi due Droll in mano Quindi poi gli ho tirato un altro Droll E aveva TTT in mano In realtà Se non negava Droll Comunque cambiava poco Quindi alla fine Misplay relativo Mettiamola così 1 a 1 E poi Vado a G3 Dove Vedo niente Letteralmente Mi stupra Male Ma proprio tipo Mi apre il culo Fa Ciao amico Puh E Niente Perdo 2 a 1 È stato bello Dryter non lo sopporto Come mazzo purtroppo È Un mazzo che mi sta Veramente molto antipatico Però Vabbè Dove andano così fratelli E giustamente Venco contro PK Perché sfiga lui Perdo contro Dryter Perché Ci sta Terzo turno Vabbè ovviamente Pausa Si fa Si va a pranzare Ovviamente un po' di fretta E si riprende Terzo turno Per le Due e mezza Tre Una roba del genere Vabbè 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 in ogni caso Vado al terzo turno Contro Mack Orkust Eldlitch Poco da dire Venco il dado Lo aro Male Poteva fare Veramente nulla Quindi Poco da dire Quanto è Questa partita Lui alla fine Me la concede Per disperazione Seconda partita Parte ovviamente Fa qualcosina Purtroppo però Misplaya Perché In stand by Mi tira Lancea In catena Lancea Mi gira Order Io avevo Cosmic Cyclone In mano Gli tiro Cosmic Cyclone Su Order E quindi Gli banno Cosmic Cyclone Gli banno Order Lancea Risolve Alla fine Ok Però Gli ha ribalto Tranquillamente Dato che Lancea Più Order Non ci sarei mai Riuscito ad andare sopra Dove essere onesto Mai Fa questo misplay E alla fine La vinco due a zero Abbastanza In maniera abbastanza Semplice Perché comunque Non è che avesse Chissà cosa Ecco Mettiamola così Dopo aver Fatto una cosa del genere Ha utilizzato le sue giocate Per provare a fare qualcosa Però poi Era riuscito a fare Praticamente Gatti a passo Ha perso troppe risorse In quel modo E poi Purtroppo Meno male per me In realtà Ha fatto questo misplay E quindi Le ho ribaltate così Quindi due a zero Stavo tipo Due a uno Quarto turno Vado contro Virtual World Prima partita Mi fa Pochissima roba Minco io il dado Vado primo Mi set up La board Lui fa veramente poco E vabbè Alla fine mi concede la partita Seconda partita Mi apre Mi apre in due proprio Cioè Letteralmente Io non faccio nulla Perché Anche perché Non ho visto niente Vabbè Terza partita Vado di nuovo Vado di nuovo io E poco da dire Gli faccio full board E lui Piange male E quindi Finisce Due a uno per me Vado sul Tre uno Al Quinto turno Trovo Beppe Pareggiamo Scade il tempo Che io avevo tipo Settemila Otto subiti E lui Seimila e qualcosa E Pareggiamo Però andava bene Tutte e due Perché comunque Era un result Che Poteva farci entrare Tutte e due In top Potenzialmente Al Sesto turno Vado Contro Altergeist Una partita Senso unico La prima partita In realtà Un po' di sofferenza Perché comunque Si stalla un attimino Però poco da dire Dopo un po' Di giocate L'era ribalto Tranquillamente Perché Minco io il dado Tipo Gli faccio una giocata Lui Setta roba Mi riesce A Ribaltare In un certo senso Poi però io Entro piano piano In controllo della partita Gli incomincio a togliere Le risorse con il dpe E quindi Va a finire abbastanza male Per lui ovviamente Seconda partita Vabbè Poco da dire Va lui primo Se fa setto quattro Con tipo Marionetta E passa Io Ok Gli gioco Evelyn Mashed Mi fa giudizio solenne Mancavano A quel momento Tipo dieci minuti Alla fine Dico Ok Sto messo abbastanza bene Tengo testa Poi mi gioca Un altro giudizio solenne E poi sul fine tempo Proprio mancavano Un minuto e venti Tipo Lo riesco a chiudere Perché aveva tipo 2000 life points Aveva finito tutte le settate Vado a calare Vado a calare Augoides Augoides Spacca E fa danno su Marionetta E quindi Vado tranquillamente A vincere 2 a 0 Settimo turno Vado contro Stavo 4-1-1 Sì Vado contro Invo dogmatica Con Lishadol A differenza mia Poco da dire Prima partita La vince lui Vince il dado Mi fa La giocata Non la so giocata Io non riesco A stargli sopra Seconda partita Prende troppo vantaggio Io ho fatto anche Un misplay Perché Stavo Completamente Cottissimo E Gioco Maximus A caso Quindi Maximus In mirror C'è tipo Ok campione E quindi Va bene E quindi niente Perdo 2 a 0 Secco Con Invo Dolmatica Ma ci sta Alla fine Finisco Il torneo 4 vittorie Un pareggio Di sconfitte Esattamente Lo stesso risultato Che feci con Altergeist Solo che Risultato differente A sto giro Finisco in top Top 16 Arrivo Quattordicesimo Va bene Gioco la top 16 Anzi no Contro Invo dogmatico Ho perso 2 a 1 Non 2 a 0 Vabbè Poco cambia In ogni caso Sì perché Una Tipo Una L'ho ribaltato Va bene In ogni caso Ho perso 2 a 1 Ho perso comunque Top 16 Vado contro Svorsoul Mi dispiace Per questo ragazzo Che era terzo In Svizzera Però L'ho distrutto Veramente Cioè mi fa Nel primo turno Vince il dado lui Normal Moie Io faccio 1 Lui fa 6 Tipo 4 Un bel genere Va bene Fa Moie Normal Effetto Mi rivela Adara Tipo Nella mano Io gli faccio Ok In permanence Fa 7 1 Passo Gli faccio Tutta la mia giocata Tutta la mia combo Non riesce a rivaltarmi Niente Vinco la prima La seconda Poco da dire Mi ha giocato Lancea Io avevo Crossout In mano Quindi Gioco Crossout Su Lancea E Vivia dentro Di Tipo 12 mila danni Nel genere Vabbè Quindi Vinco la top 16 Vado in top 8 In top 8 Purtroppo Becco Bird up Vinco il dado Vado primo Faccio tutta la mia combo Però mi prendo Droplet su Winda Che letteralmente Lo fa vincere Perché poi mi fa Zeus pulisce il terreno Niente Poco da dire Mi pulisce il terreno E fa Il cazzo che gli pare Seconda partita Vedo pochissima roba E Letteralmente Mi picchia Di tantissime volte Con quella combo Che fa OTK Che tipo Lui non subisce danno Ma tu si Con i Lirilus Che insomma Quella combo OTK strana Che Che gioca Quel mazzo E niente La mia avventura Si ferma In top 8 Top 8 Che mi ha regalato Però 16 bustine Dove Vi faccio vedere Che ho sbustato Queste 3 secret Top 8 Devo dire Che comunque Tutto sommato Sono Contento Ah Ho preso anche 3 mistake A scambio Si 3 mistake Non ce li avevo Quindi ok Comunque Arrivo top 8 Devo dire Settimo posto Ho preso Si Settimo posto Devo dire Che comunque Il mazzo Mi sta piacendo tantissimo Sta girando molto bene Sono molto Contento di aver fatto Top 8 Anche perché Dopo un regionale Indecente Come quello che Ho passato Due settimane fa Tipo Non me lo ricordo Quando è stato Era tipo Il 27 di novembre Era un bel genere Vabbè Gli ultimi giorni di novembre C'era sto regionale Del quale portai Il report Dove mi presi 5 Imperial order Tipo Andò malissimo Feci 4 vittorie 3 sconfitte Quindi Non do veramente Di merda A sto ludus Invece Ho fatto Top 8 Alla fine Mi sono fermato In top 8 E' stato Diartente E Ho sbustato Anche abbastanza bene C'è da dire Quindi Non mi posso lamentare E il secondo ludus Che top Primo ludus Toppato con Dino Secondo Toppato con Invo Dormatica Mi dispiace Venendo il risultato Che ho fatto a sto giro Ancora di più Per il vecchio result Che feci con altri Guys dove feci 4-1-2 Comunque Però non riusci a fare top Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Aspettatevi la decklist Nei prossimi giorni Adesso qui ho un po' di bordello E non so Quando riuscirò a registrarla La decklist Anche perché Sono un po' incasinato Ultimamente Ma Vedo di portarvela Male che vada Giovedì la vedrete Non lo so Giovedì dovrebbe essere Natale Tipo No 23 Ok Sì Giovedì dovreste vederla Penso E niente Signori Avete fatto qualche evento Voi Avete partecipato A Lulus stesso Ovviamente A Lulus C'era un sacco di gente Che mi conosceva Quindi Non mi faccio più domande Per quanto riguarda Questi eventi Scrivertimi Scrivertimi tutto Qua sotto E niente Noi ci vediamo Come al solito domani Alle 15 Con un nuovo video Spero Perché Non so Se riuscirò A mantenere La cadenza In questi giorni Che sono veramente Tanto pieno Ciao ragazzi Nella speranza Che si possa partecipare Al YCS E perché no Sfruttare anche L'invito all'europeo Che ho vinto Con L'OTS Championship Sì Perché l'europeo Io ci vorrei andare Ma vedremo più in là Ciao ragazzi Ciao ragazzi